Per parlare il senatore Castaldi ne ha facoltà per sei minuti. Grazie Presidente. Cari colleghi, io vorrei iniziare questo mio breve intervento ricordando un valore molto importante, il valore della lealtà. La lealtà indica una componente del carattere umano per cui una persona sceglie di obbedire a particolari ideali di correttezza e sincerità anche in situazioni difficili o sconvenienti mantenendo la parola data e comportandosi di conseguenza come ad esempio quando si firma un contratto e si deve avere la serietà di rispettarlo. Non bisogna pretendere la lealtà dagli altri perché la vera lealtà non può essere imposta la vera lealtà può solo essere conquistata è evidente che probabilmente con la Lega noi non ci siamo riusciti diciamo così. Vorrei sottolineare anche un altro concetto che è il concetto di conflitto di lealtà che è quel conflitto quando ad esempio stupidamente chiediamo ad un bambino se vuole più bene al papà o vuole più bene alla mamma. Questo provoca psicologicamente un senso di indecisione, di ansia, di stallo provoca sofferenza in quel bambino. Io mi rivolgo a noi ci chiamavamo guerrieri siamo guerrieri, 5 stelle il sistema politico ci ha fatto proprio questa domanda in maniera molto subdola per metterci in difficoltà per tentare di distruggerci dall'interno noi abbiamo sofferto e tanto questo è vero abbiamo ragionato tanto poi orgogliosamente siamo gli unici abbiamo chiesto ai nostri iscritti di decidere non certo hanno deciso se vogliamo più bene alla Lega o al Partito Democratico la risposta sarebbe scontata gli iscritti del Movimento hanno scelto se continuare ad ottenere risultati positivi per il popolo italiano questo hanno scelto e io lo voglio rivendicare il Movimento al Governo ha ottenuto fino ad oggi risultati eccellenti per i cittadini italiani dal reddito, quota 100, decretinità, spazzacorrotti ecc. eccoci qua trascinati almeno per quanto mi riguarda dal ricordo di quando Don Milani ricordava che avere le mani pulite e tenerle in tasca serve a poco noi che siamo portavoce eletti del Movimento 5 Stelle ci troviamo ad eseguire la volontà della maggioranza degli iscritti e ci troviamo a votare favorevolmente per la seconda volta nella nostra giovane storia una fiducia ad un Governo che vede noi schierati insieme ad una vecchia forza politica fu la Lega mesi fa e il PD oggi quindi colleghi, attivisti, simpatizzanti, cittadini insomma voglio citare Brecht ora non è il momento adatto per vincere ma bensì quello per combattere le sconfitte e io direi la sconfitta della lealtà che poc'anzi ho richiamato tante vicende e tante domande ci precedono il 4 marzo 2018 il Movimento ha distaccato pesantemente qualsiasi partito politico alle elezioni ma attenzione riceveva solo il 32% del consenso elettorale che si rivolgeva ancora una volta per il 68% ai soliti partiti politici e la breve storia che abbiamo alle spalle e chi ha seguito le nostre sorti lo sa ci ha messo sempre davanti ad un bivio sempre da un lato la tentazione di estranearsi dal mondo della vecchia e marcia politica e dall'altro l'esigenza di non sottrarsi alle necessità di prendere posizione di cimentarsi con la realtà con le sue asperità e con le sue contraddizioni dopo cinque anni di opposizione il nostro Movimento ha scelto la seconda e lo ha scelto prima dichiarandolo in ogni angolo d'Italia in campagna elettorale senza una maggioranza autonoma metteremo i nostri temi sul tavolo e chiederemo a chi ci sta detto e ridetto non solo ha fatto anche qualcosa di più il Movimento non si è lasciato sopraffare dalla depressione né dalla diserzione di alcuni cittadini che hanno buttato via l'elmetto per strada ma ha fatto da stimolo a un'interrogazione costantemente autocritica volta al miglioramento del nostro agire volta ad ottenere il quanto più possibile per la nostra popolazione e attenzione questo è successo su un campo di battaglia sapientemente predisposto da tutti i partiti che era la legge elettorale un campo di battaglia nemico quindi non devono esistere colleghi fasi belle, fasi brutte entusiasmanti o deprimenti ma solo fasi con compiti diversi ciascuno dunque affili le sue armi intellettuali, materiali perché di lavoro da fare ce n'è tantissimo e ricordiamoci sempre che l'onestà è la miglior politica per quanto ci riguarda e siamo pronti a riprendere da dove per colpa di qualcuno la nostra azione di governo si era interrotta e lo faremo dando il massimo come sempre lo faremo con tutte le nostre energie perché abbiamo il dovere di dare l'infa alle istanze dei cittadini io chiudo Presidente ma mi permetta sempre per richiamare la lealtà che ho evidenziato all'inizio di ringraziare i colleghi parlamentari della Lega con i quali abbiamo operato senza ombra di dubbio con serietà e abnegazione il mio personale rispetto in alcuni casi sfociato anche in una bella amicizia personale continuerà a prevalere nei miei comportamenti auspico che questo avvenga anche con i colleghi dell'attuale maggioranza con i quali ed è inutile negarlo ci siamo per anni pesantemente scontrati verbalmente oggi il nostro movimento come 15 mesi fa ha messo i temi importanti del nostro Paese al centro stavolta però diversamente da un anno fa il Partito Democratico ha detto sì bene partiamo insieme con le migliori intenzioni e ricordiamoci sempre di essere leali a vicenda senza lealtà non c'è solo l'amicizia l'amicizia tra noi è l'ultimo dei problemi che hanno gli italiani senza lealtà prevalgono gli interessi personali e non si riescono ad ottenere risultati per gli italiani il movimento riprende il suo cammino con passione e serietà e io auguro a tutti noi di farcela grazie a tutti grazie a tutti